eh chissà cosa ha preso fuoco la ecco allora magari la botta che hai sentito non era un funeral non era un trono era un voato un'esplosione aspettando che la monovoletta si gonfi quante cose che ci ho apprendito un albero caduto qua c'è un tempo di merda sta arrivando però è solo una nuvola di passaggio spero non è la mia macchina che esplosa no mi sa che ti è esploso il culo però si va a posto si va a posto quindi non è un fumo era un'esplosione chissà cosa esplose questa estate è stata alberi caduti pulmini improvvisi esplosioni esplosioni di non so cosa ma è passato ciao ragazzi siamo sempre lì del stensi a Ferrara c'è il Giova Beach che ha chiuso tutto il porto sto passaggio no non è una diretta un video perché non c'è qualcosa ma tanto monopubbico ciao